Belma Barfield Soprannome L'avvelenatrice Luogo omicidi North Carolina, USA Periodo omicidi 1975-1978 Numero vittime 3 Modus operandi Avvelenava le sue vittime Catture e provvedimenti Condannata a morte tramite iniezione letale Il 2 novembre 1984 I serial killer di sesso femminile Rappresentano solamente il 10% del totale La maggior parte di loro uccide per vendetta Per odio o per tornaconto personale Soprattutto in caso di eredità O comunque di cospicui guadagni economici Al contrario degli uomini Che uccidono con un grande coinvolgimento fisico Le donne serial killer Preferiscono ricorrere allo strangolamento O all'avvelenamento Belma Barfield Prima donna ad essere giustiziata Dopo il reintegro della pena capitale Nel 1976 È sicuramente il prototipo Della velenatrice seriale Margie Belma Bullard Nasce il 29 ottobre 1932 In una zona rurale del South Carolina È la seconda dei nove figli Del coltivatore Murphy Bullard E della casalinga Lily Bullard La casa dove Belma Trascorre l'infanzia È una capanna di legno non verniciata Mancano anche la corrente elettrica E l'acqua corrente Per procurarsela I familiari partono a turno Per il bosco armati di pentole Oltre ai due coniugi E i loro bambini Nella casa vivono anche i genitori Di Murphy e sua sorella Susan Ella Che è priva di un braccio E di una gamba A causa della poliomielite Nel periodo della grande depressione I soldi incassati Dalla vendita del cotone E del tabacco Non bastano più Perciò Murphy Bullard Si fa assumere come operaio In un molino tessile Di Fayetteville Per seguirlo L'intera famiglia Si trasferisce in una casetta appena fuori città Dove Nel giro di nemmeno un anno Muoiono entrambi i genitori di Murphy La famiglia Bullard È tradizionalmente patriarcale Murphy è il re In contrastato Del loro castello di stracci E l'intera famiglia Soprattutto la moglie Si deve sottomettere a lui Il re in questione Murphy È un uomo facilmente irritabile Alcolizzato e severo Con i propri figli Velma non sopporta Che sua madre Si faccia sottomettere Da quell'uomo Rimani e sgomenta Quando il padre la picchia E la madre non tenta Nemmeno di difenderla A proposito di ciò Qualche decennio più tardi La donna scriverà Nelle sue memorie Una donna nel braccio Della morte Accettai sempre Il comportamento Di mio padre Perché credevo Che tutti gli uomini Fossero così Ma il comportamento Di mia madre Mi infastidiva Le mamme dovrebbero amare Loro figli E difenderli Ma lei non lo fece mai In realtà Anche la madre di Velma È vittima di Murphy Uomo estericamente Geloso e manesco Nel 1939 All'età di 7 anni Velma comincia A frequentare la scuola È una ragazza Intelligente Ed educata Perciò i complimenti Degli insegnanti Nei suoi riguardi Si sprecano La scuola inoltre Le offre una tregua Dalla sua casa affrollata Dalla rabbia Di suo padre E dalla madre ammalata Che richiede di molte cure In ogni caso Ben presto Per la bambina Sorgono dei problemi Con i compagni di classe Lei non può permettersi Di vestire bene Come le altre ragazze Le sue scarpe Sono pesanti e usate I suoi vestiti Sono vecchi Mentre gli altri bambini Pranzano con panini e carne Lei si deve accontentare Di alcuni cereali Così Per evitare di sentirsi A disagio Velma comincia A derubare gli adulti Per migliorare La propria situazione Finanziaria Inizialmente Sottrae solo qualche monetina Dalle tasche del padre In seguito Si metterà a derubare Anche i vicini di casa Nel frattempo A casa Velma viene assegnata Ai lavori domestici Come mantenere la fattoria O prendersi cura Dei fratelli e sorelle Più piccoli Ne farebbe volentieri a meno Ma teme che il padre Si arrabbi Qualche anno dopo Velma denuncia suo padre Ad un reporter Del giornale The Villag Voice La ragazza racconta Che il genitore È penetrato Notte tempo Nella sua stanza E l'ha stuprata La famiglia litigherà A lungo sulla veridicità Di questa affermazione E la stessa Velma Contradirà più volte Questo episodio Nel 1945 Murphy Bullard Decide di mollare Il lavoro al molino E di tornare all'agricoltura Compra così Qualche acro di terra E una piccola casa Dopo un anno L'uomo si accorge Che l'agricoltura Non rende abbastanza Per mantenere tutti Quei figli Perciò torna al molino Qualche tempo più tardi Trova un lavoro Presso un'industria Tessile di Red Springs E qui si trasloca Con l'intera famiglia Per l'ennesima volta Velma ha cominciato A frequentare il liceo Ma non ottiene più I buoni voti Che aveva un tempo Si consola giocando In una squadra femminile Di pallacamestro Fino a quando La madre glielo vieta Lily ha infatti Partorito altri due figli E ha bisogno Della ragazza Per farsi dare una mano Dall'altra parte Il padre le impedisce Di frequentare Thomas Burke Il ragazzo Che le piace Nonostante queste difficoltà I due si sposano A 17 anni Al contrario Di quanto si aspettasse Velma Murphy Bullard Non ricorre alla violenza Per impedirle di sposare Thomas Al contrario Saputa la notizia L'uomo scoppia in lacrime Dopo il matrimonio Thomas e Velma Abbandonano la scuola Burke intraprende Numerosi lavoretti Come dipendente Di una fattoria O autista Di autocarri Mentre Velma Dopo aver lavorato Come commessa In una farmacia Decide di fare La casalinga A tempo pieno Il 15 dicembre 1951 La coppia Il primo figlio Ronald Thomas Kim La seconda figlia Nasce il 3 settembre Del 1953 Velma Burke Adora prendersi cura Dei suoi bambini È una madre Indulgente e protettiva Spesso legge Dei libri ai figli E non riesce A separarsi da loro Se non per breve tempo Regolarmente Li porta alla chiesa Battista Nella speranza Che entrambi Diventino degli ardenti Cristiani Protestanti come lei Quando Ronald e Kim Cominciano la scuola Velma diventa Una delle madri Più impegnate Della città Sempre disposta Ad accompagnare La classe in gita A organizzare feste Per gli studenti E via dicendo Trova anche un nuovo Lavoro per aiutare Economicamente la famiglia Thomas Che l'aveva convinta A morolare il lavoro In farmacia Questa volta Non si oppone Grazie allo stipendio Dei due coniugi La famiglia Burke Riesce a trasferirsi In una graziosa Casetta a Parkton E a viverci Dignitosamente Per molti anni Nel 1915 Nel 1963 Velma comincia Ad avere problemi Di salute E deve subire Un'isterectomia L'intervento Avrà uno strascico Psicologico Nella donna Che diventa nervosa Sgarbata e depressa È preoccupata Che l'impossibilità Di rimanere ancora Incinta La renda meno femminile E di conseguenza Meno attraente Agli occhi Di suo marito Come se non bastasse Thomas si iscrive Ad un'associazione Di volontariato Nota come IHS Ciò significa Lunghi assenze Da casa Soprattutto la sera Quando Velma scopre Che l'uomo in realtà Va a bere birra Con degli amici Ne rimane sconvolta Ad essere sinceri La sconvolge di più La presenza di alcol Nella vita di suo marito Poiché la sua educazione Religiosa Le ha inculcato Nella testa Che gli alcolici Sono le bevande Del demonio Piuttosto che le bugie Che Thomas Le ha raccontato La crisi familiare Peggiora nel 1965 Quando l'uomo Ha un incidente stradale Mentre guida In stato di brezza I due coniugi Finiscono così Per litigare furiosamente Quasi ogni giorno Spaventando anche I loro figli Ma ciò non farà Mai smettere L'uomo di bere Nel 1967 Thomas Burke Viene arrestato Sempre per guida In stato di brezza Perde la patente E il lavoro E cade in depressione Sua moglie Invece è sempre Più stressata Per gli attriti In famiglia E comincia a perdere Peso a dismisura Fino a svenire Per la debolezza Durante un ricovero Ospedaliero I dottori le prescrivono Il Livrium Un leggero sedativo Un altro dottore Da lei consultato Le prescriverà Il Valium Questo giochetto Verrà attuato Da Velma Fino al giorno Del suo arresto Ogni volta Che si sente male La donna consulta Più dottori Contemporaneamente A loro insaputa E si fa prescrivere Diversi tipi Di medicina Per lo stesso problema Naturalmente Le prende tutte insieme Un giorno di aprile La casa dei Burke Prende fuoco Velma è in lavanderia I figli sono a scuola Thomas invece muore Intossicato dal fumo Rimasti senza casa E senza capofamiglia Velma e i figli Si trasferiscono Dai genitori di lei Marfi e Lily Bullard Velma conosce Un altro uomo Jennings Barfield Barfield è un uomo Pieno di problemi fisici E di salute Tanto che ha da poco Ricevuto il prepensionamento Soffre di diabete Enfisema E di malattia cardiaca E ha perso anche lui La moglie I due sfigati Si sposano il 23 agosto Del 1970 E vanno a vivere Nella casa dello sposo A Fayetteville Nella quale vive Anche la figlia Teenager Le chiede il divorzio Non arriverà mai Alla sentenza del tribunale Perché il 21 marzo Del 1971 Muore di infarto O almeno così sembra Rimasta nuovamente vedova Velma si fa assumere Come cassiera Presso un grande magazzino I suoi sbalzi di onore E la sua grave dipendenza Dai farmaci Sono però Fin troppo evidenti Ai clienti Perciò viene spostata Precauzionalmente A lavorare nel deposito Come magazziniera Ad aggravare ulteriormente Lo stress della donna Ci si mette l'esercito Degli Stati Uniti Che ruola l'amato figlio Ronnie per la guerra In Vietnam Le cose possono però Andare in maniera Ancor peggiore E lo faranno La casa di Velma Infatti va nuovamente A fuoco E lei cade nell'isterismo Rimasta senza casa Si trasferisce con la figlia Kim un'altra volta A vivere dai genitori Qui Velma apprende Che suo padre È malato di cancro Al pulmone Murphy morirà Pochissimo tempo dopo All'età di 61 anni Malgrado non fossero In ottimi rapporti Questa ennesima perdita Spinge Velma Verso la depressione Più profonda Non si riprende Nemmeno quando Ronald L'avvisa che non partirà Più per il Vietnam Poiché si è sposato Al contrario Velma dà in escandescenze E insulta pesantemente Il figliolo Per averla sostituita Con un'altra donna Nel marzo del 1972 Velma Barfield Viene arrestata Per aver contraffatto Una prescrizione medica In questo periodo Lei e la madre Litigano di frequente La donna anziana Pretende che la figlia Le dia una mano Nelle faccende domestiche Mentre Velma Stufa di fare da schiava Lilli E continua a prendere Farmaci su farmaci Cosa che naturalmente Contraria la madre Durante l'estate del 1974 Lilli Bullard Si ammala gravemente Il suo stomaco È tormentato Da dolorosi crampi Soffre di diarrea E di crisi di vomito Per fortuna La donna Si riprende in seguito A un ricovero in ospedale Il 23 agosto Di quell'anno Velma Ottiene un premio assicurativo Di 5000 dollari Il suo fidanzato attuale L'aveva infatti Nominata beneficiaria Della propria polizza Sulla vita E un incidente stradale Lo ha stroncato A Natale Lilli Bullard Si ammala nuovamente Ricominciano la nausea E la diarrea Si sente come in fiamme Vomita sangue Le braccia si agitano In preda agli spasmi Morirà due ore Dopo essere arrivata In ospedale All'inizio del 1975 Velma finisce nuovamente Nei guai con la legge Sempre a causa Di prescrizioni mediche Contraffatte Questa volta Il giudice Decide di non convertirle La condanna in una multa E la donna È costretta A farsi sei mesi Di carcere Dopo essere tornata In libertà Velma si mette Alla ricerca di un lavoro E lo trova come Badante E domestica Per persone anziane Si trasferisce così A casa dei coniugi Montgomery E Dolly Edwards Lui è un 94enne Diabetico incontinente Costretto a letto Perché gli sono state Amputate entrambe le gambe Lei è un 84enne Abbastanza sana Ma appena uscita Da un cancro al colon Montgomery muore Nel gennaio del 1977 Perciò Velma rimane Nella casa Ad aiutare Dolly Con la quale litiga Molto frequentemente Il 26 febbraio Dolly si ammala Sembra una forte influenza Caratterizzata da diarrea E vomito Morirà due giorni dopo Dopo il fallimento Di questo lavoro Velma comincia A frequentare la chiesa E le riunioni protestanti In una di queste incontra Stuart Taylor Un uomo divorziato Che la donna Comincia a frequentare I successivi datori Di lavoro di Velma Sono i coniugi lì Lui John Henry È un ex coltivatore Ottantenne Mentre la moglie Record Ha 76 anni La donna necessita Di un'assistenza speciale Perché si è rotta la gamba E cammina con le stampelle Per Velma È un lavoro Molto conveniente La casa è ottima Ma i coniugi Le lasciano il mercoledì E la domenica liberi Affinché lei possa partecipare Alle riunioni religiose E alle messe Anche quello che sembrava Il lavoro perfetto Mostrerà presto delle macchie I lì Per esempio Litigano spesso E Velma Non sopporta sentire Le loro urla Record Inoltre Ama molto chiacchierare E sommerge la badante Con la sua parlantina Il 27 aprile John Henry Lì si ammala gravemente Il suo stomaco È sconvolto dai crampi E non fa che vomitare Dopo qualche giorno L'uomo comincia a soffrire Anche di diarrea Ricoverato in ospedale Il signor Lì viene rilasciato Solo il 2 maggio Quando Secondo i dottori Che l'avevano in cura È ormai guarito Dal virus Che lo aveva afflitto Nei giorni precedenti Al contrario L'uomo non è per niente guarito Sta male tutto il mese di maggio In preda ai crampi Al sudore freddo Alla nausea E alla diarrea Perde peso a dismisura Mentre Velma Si prende amorevolmente Cura di lui Fino a quando Il 4 giugno John Henry Lì muore Al termine del funerale Dell'anziano Velma è di buon umore Tanto che si dirige A casa di Stuart Taylor Per fargli uno scherzo Approfittando del fatto Che l'uomo Sta schiacciando Un pisolino sul divano Velma lo mette In una posa da morto Con le braccia incrociate Sul petto E gli scatta una fotografia Nei giorni seguenti Regala quella foto D'Alice La figlia di Stuart Il macabro gioco Diverte molto Entrambe le donne Se solo Alice Sapesse cosa Si prospetta per suo padre È una sera marzolina Del 1978 Il grande e grosso Stuart Taylor Ha deciso di accompagnare La sua opulenta compagna La 46enne Velma Barfield Ad un meeting Del risveglio Movimento della chiesa Protestante risolente Al diciottesimo secolo Tenuto dal famoso Predicatore Rexon Bard Stuart non è molto religioso Ma sa che la sua ragazza È una devota cristiana E gradirebbe molto Ascoltare le parole Del noto religioso Evangelista Ha una personalità Contraddittoria La sua Velma Nonostante la sua forte religiosità Convive con Stuart Cosa che sgomenta I suoi due figli Ronnie e Kim Tempo a Pietro È stata condannata Per falsificazione Lui lo ha scoperto Per caso Ma è bastato A convincerlo Di non sposarsela La coppietta È vestita Con degli abiti Della Domenica Nuovi di Zecca E siedono in due sedie Del Cumberland County Civic Center Di Fayetteville North Carolina Stuart non sta bene Gli gira la testa E ha la nausea Deve essere qualcosa Che ho mangiato Sussurra alla fidanzata Appena il reverendo Unbard Comincia la sua predica Le condizioni di Stuart Peggiorano Prova fitte profonde Allo stomaco Torno alla macchina E provo a sdraiarmi Per un po' Uscito dalla sala Soffocante Il contadino 56enne Si dirige al suo furgoncino E si siede comodamente Al posto del guidatore Ma le cose peggiorano Ulteriormente Il dolore fisico È insopportabile Quando Velma Entra nell'auto Al termine del meeting Trova Stuart sdraiato In preda agli spasmi di dolore Pallido Sudato e nauseato Velma lo trascina fuori dall'auto Dove l'uomo si mette a vomitare In mezzo ad un mucchio di immondizia Stuart passa la notte in bianco Contorcendosi per il dolore Allo stomaco Alle prime ore del mattino Velma telefona alla figliastra Alice Per informarla sulle condizioni del padre Mattre mia e figlia Discutono a lungo della situazione E alla fine stabiliscono Che si tratta sicuramente Di una forte influenza Nelle ore successive Le condizioni di Stuart peggiorano Vomita di continuo Torace Stomaco e braccia Sono lividi e doloranti Tra un momento e l'altro L'uomo dichiara di sentirsi come Se stesse andando a fuoco Il giorno seguente Velma accompagna il fidanzato all'ospedale Dopo qualche ora e qualche telefonata La raggiungono i figli di lui Alice e Billy Non passa molto tempo Prima che i dottori Diagnostichino a Stuart La gastrite Dopo la prescrizione di alcune medicine Il paziente viene rispedito a casa In effetti Degli amici che passano nel pomeriggio Trovano il decente decisamente migliorato È seduto sul letto Chiacchiera con loro E fuma una sigaretta Ma il giorno seguente Venerdì Alle 20 Le condizioni di Stuart precipitano Velma chiama i vicini E insieme Chiamano un'ambulanza I paramedici trovano l'uomo In condizioni pietose Nella stanza c'è un odore nauseante Perché l'uomo ha subito un attacco di diarrea Mentre dormiva Le braccia e le gambe Si muovono a scatti In tutte le direzioni Mentre Stuart Madido di sudore Urla cose senza senso Dopo una difficile operazione Per legare il paziente I paramedici partono In direzione dell'ospedale A sirene spiegate Li segue Velma A bordo del camioncino di Stuart Stuart Taylor muore Un'ora dopo del suo arrivo in ospedale Nemmeno i dottori Riescono a capire Quali siano state le cause E chiedono alla famiglia il permesso Di ricorrere ad un'autopsia Se non la fate Ci chiederemo in eterno Cosa sia stato ad ucciderlo È la risposta della donna I funerali si tengono la domenica successiva Partecipa anche Ronnie e Burke Il figlio preferito di Velma Mentre i parenti e amici di Stuart Taylor Partecipano alla messa Il detective della polizia di Lumberton Benson Phillips Riceve una telefonata anonima L'interlocutrice urla frasi sconnesse Sembra spaventata e confusa Le uniche cose che l'agente di polizia riesce a cogliere sono È stato un omicidio Io so chi è stato Lei deve fermarla Vi prego, fermatela Non essendo al corrente di omicidi recenti nella piccola città L'agente pensa immediatamente alla telefonata di uno squilibrato Il modo peggiore per cominciare la giornata Poco dopo, come tutti i giorni Phillips si reca al lavoro E non ci mette molto a dimenticare lo spiacevole inconveniente mattutino Ma la squilibrata richiama Questa volta però è più calma e coerente Chiama dal South Carolina Ma non può fornire il proprio nome Nessuno deve sapere nemmeno che lei ha fatto quelle chiamate È stato ucciso un uomo, afferma Il fidanzato di Velma Barfield L'assassina è proprio Velma Che ha ucciso anche la propria madre Non può fornire prove Ma sicuramente ci sono state delle altre vittime Vicino a Velma sono morte troppe persone Come fa a sapere tutte queste cose su Velma Barfield? In calza Branson perché sono sua sorella E la telefonata si chiude bruscamente La telefonata pseudo-anonima confonde alquanto l'investigatore L'esperienza gli dice di non dare peso a certe asserzioni Ma la donna al telefono sembrava così sincera e spaventata Felix decide di mettersi in contatto con l'ospedale di Lumberton E chiede informazioni sui decessi avvenuti nel fine settimana appena trascorso È morto solamente Stuart Taylor Le cause della morte sembrerebbero essere naturali Ma il dottor Bob Andrews non ha ancora ricevuto il referto dell'autopsia Il detective è intrigato, ma allo stesso tempo scorciato Tyler era della campagna di Santa Pol E ciò metterebbe Phillips fuori gioco Poiché quella zona fa parte della giurisdizione dello sceriffo Lovett Nel frattempo, il dottor Andrews Ignaro che il detective Phillips lo abbia cercato Riferisce allo sceriffo Lovett i risultati dell'autopsia Stuart Taylor è apparentemente morto di gastroenterite Ma l'autopsia ha messo in risalto delle anomalie nel tessuto del fegato Al momento, i campioni di tessuto di Taylor sono ancora presso l'esaminatore medico della Contea e i risultati non sono ancora disponibili Quando, sollecitato dai figli del defunto Il dottor Andrews telefona all'esaminatore medico principale del North Carolina Paige Hudson, riceve questa risposta Dove lo ha comprato l'arsenico quella donna? Date queste supposizioni piuttosto gravi La polizia decide di investigare sulla morte di tutte le persone che hanno avuto rapporti con Velma Barfield Dalle autopsie non è mai emerso molto Anche perché non è mai stato compiuto il test di verifica per i veleni Però risultano alcuni morti di gastroenterite È ormai chiaro che Velma non è una semplice uxoricida Bensì una vera e propria serial killer Non avendo prove, la polizia è costretta a trovare un modo per strappare alla donna una confessione La prima chiacchierata con l'indagata viene tenuta in maniera colloquiale e amichevole dal detective Phillips E dallo sceriffo Lovett, ma Velma non la prende bene Dopo essersi arrabbiata e indignata, la donna si allontana dalla centrale di polizia senza salutare Prima di lasciarla andare, lo sceriffo riesce comunque a convincerla a prenotarsi per un test alla macchina della verità Il sabato successivo, Velma telefona al figlio Ronnie Ronnie Burke è ormai un 26enne con tantissime responsabilità È sposato e ha un figlio di tre anni, lavora a tempo pieno e studia economia aziendale all'università Burke tiene soprattutto allo studio perché vuole diventare il primo membro della sua famiglia con un titolo di studio importante La donna spiega la situazione e chiede aiuto al figlio prediletto Il giorno dopo perciò Ronnie si reca dallo sceriffo, con il quale avrà un dibattito piuttosto acceso Al termine dell'incontro, il giovane si reca presso l'abitazione di Mamie Warwick dove la signora Barfield è ospitata in cambio di faccende domestiche Ronnie coglie sua madre mentre schiaccia un pisolino, ma la sveglia Vuole avvisarla che, secondo lo sceriffo, è ormai questione di tempo e poi la resteranno per presunto omicidio Lui ha provato ad aiutarla, ma non ha potuto fare niente La donna scuote la testa e comincia a singhiozzare Quando smette finalmente di piangere, le sue parole colpiscono Ronnie Burke come un pugno nello stomaco Io volevo solo farlo ammalare Demoralizzato e sconvolto, Burke convince la madre ad andare dalla polizia con lui a spiegare che si è trattato solamente di un incidente Belma in cambio gli fa promettere di non assumere avvocati per difenderla Le cattive notizie per il povero Ronnie non sono ancora terminate Il giorno successivo, quando l'uomo è al telefono con il detective Parnell per informarsi sulle condizioni di sua madre viene a sapere che Belma ha confessato altri due omicidi, tra cui quello della propria madre, nonché nonna di Ronnie, Lily Bullard Nel processo a Belma Barfield, l'accusa è rappresentata dal focoso avvocato Geoffrey Manbritt Un uomo iroso e grande sostenitore della pena di morte La pena di morte è stata ripristinata solo da due anni, nel 1976, ma Barfield ha già ottenuto la condanna a morte per 13 assassini La difesa è invece affidata a Bob Jacobson, un avvocato d'ufficio inesperto, basso, impacciato e lentiginoso Belma Barfield è accusata di omicidio di primo grado, quello di Stuart Taylor, poiché non esistono prove certe né per gli altri presunti omicidi commessi dalla donna né per i due che lei ha confessato dopo l'arresto La difesa è basata sulle intenzioni della donna, che voleva solamente ammalare il suo fidanzato Stuart spendeva molti soldi e lei intendeva tenerlo malato per un po' di tempo, come punizione Nel caso in cui la giuria dovesse approvare questa versione dei fatti, la condanna sarebbe per omicidio di secondo grado reato per il quale non esiste la pena di morte Il processo entra sin da subito nel vivo Britt esige che vengano riconosciuti anche gli omicidi di John Henry Lee, di Dottie Edwards e di Lily Bullard L'avvocato accusatore si chiede inoltre come mai l'imputata non abbia somministrato l'antidoto dell'arsenico al suo fidanzato una volta accortasi che la salute dell'uomo precipitava Nonostante gli sforzi della difesa di dimostrare che Belma Barfield è solo una donna spaventata e confusa schiava di farmaci che ne rallentano le capacità intellettive il giudice Henry McKinnon emette la sentenza di colpevolezza e condanna l'imputata alla pena di morte Secondo la giuria dunque Belma Barfield è, come sostiene l'accusa, una donna vendicativa una spiegata assassina a sangue freddo che nasconde le sue cattive intenzioni dietro a una maschera di donna pciola innocua e religiosa Come per tutte le sentenze capitali, il processo d'appello è obbligatorio Nel caso di Belma Barfield i processi d'appello si susseguiranno per ben sei anni ma il massimo che gli avvocati riusciranno ad ottenere è la modifica della data di esecuzione Al termine dell'ultimo processo d'appello, il giudice esaminatore decreta che l'avvelenamento con l'arsenico e i dolorosi supplizi a cui sono stati condannate le vittime di Belma Barfield sono da considerarsi come torture perciò non ci sono speranze che la pena combinata alla donna venga mai ridotta Nel North Carolina, e in quasi tutti gli Stati Uniti, non sono molte le donne condannate a morte di conseguenza non esiste la sezione femminile del braccio della morte Per questo motivo, Belma sconta la sua pena presso la sezione della Central Prison del North Carolina dedicata ai detenuti ritenuti più pericolosi ed aggressivi Nonostante soffra dei comuni malesseri del condannato a morte, inappetenza, insonnia, nausea, sudore freddo, mal di testa, depressione e ansia Belma riesce a dare un tocco di personalità alla propria cella Appende mensole e le riempie di suppelletti livari Appende quadri e fotografie di parenti alle pareti Lavora all'uncinetto delle stampe con moti religiosi che dispone un po' ovunque Per coprire l'odore dei propri escrementi, di cui si vergogna tantissimo La donna non si fa mai mancare un pacco di sigarette al mentolo Nonostante non fumi, che accende a modi incensi ogni volta che utilizza il bagno Nel carcere in cui si trova il WC è praticamente a fianco del letto La sua radio è perennemente sintonizzata su di un programma cristiano Ben presto sventolerà ai 420 la sua conversione al cattolicesimo e la sua illuminazione in Cristo Nella speranza di essere graziata, come la maggior parte dei serial killer Evidentemente le carceri americane hanno degli strani effetti mistici Per ingannare il moltissimo tempo libero di cui dispone La velenatrice decide di alfabetizzare gli altri carcerati Gran parte dei quali è appunto analfabeta Le vengono dati anche dei permessi speciali di interazione con gli altri detenuti Solitamente non concessi ai condannati a morte Quando risulta evidente che la donna ha un'influenza molto positiva su di loro Li ascolta, li rassicura e ha sempre buone parole da distribuire Ben presto sarà nota a tutti i carcerati come mamma Margie Nel frattempo, Velma scrive la propria autobiografia Una donna nel braccio della morte, woman on the hat of I figli Ronnie e Kim sono gli unici parenti che le recano visita di tanto in tanto Durante una di queste visite, Ronnie decide finalmente di affrontare l'argomento della morte di Stuart Taylor Lo hai ucciso veramente? Penso proprio di sì Ha risposto malinconicamente Velma In seguito, la donna ha finalmente raccontato tutta la storia Ammettendo anche, così come farà sul libro delle proprie memorie, di aver ucciso Jennings Barfield, il padre di Ronnie e Kim L'ultima telefonata prima dell'esecuzione Velma le riceve dal famoso reverendo Billy Graham Ti invidio Velma, perché tu entrerai nel remio dei celli prima di me Immagina la camera di esecuzione come l'ingresso del paradiso Tornata nella sua cella, Velma riceve l'estrema unzione e indossa un pigiama di cotone e l'accappatoio con i quali ha deciso di morire Dopo essersi sistemata i capelli allo specchio per l'ultima volta e dopo aver pronunciato le ultime parole concesse Una serie di scuse per il male provocato e ringraziamenti agli avvocati, agli amici e a chiunque le sia stato vicino in quegli ultimi sei anni La donna è pronta per essere condotta nella camera della morte della Central Prison Il suo ingresso del paradiso è una piccolissima stanza asettica con al centro una lettiga sulla quale la donna viene fatta sdraiare Nel braccio sinistro le vengono infilate due grossi agli di piombo Il primo le inietterà una sostanza per farla addormentare, il secondo porterà in circolo nelle sue vene un potente veleno in grado di fermare il cuore in pochi istanti I boia sono tre Ognuno di loro premerà un bottone, ma solo uno di questi bottoni libererà il veleno È un trucchetto psicologico In questo modo nessuno dei tre carnefici avrà mai la certezza di aver tolto la vita al giustiziato Velma, per favore, cominci a contare all'indietro partendo da 100 100, 99, 98, 97 Ben presto la voce della donna si spegne e lei comincia a russare La sua respirazione si fa sempre più debole, fino a quando la sua pelle non diventa grigia come cenere A questo punto, il monitor connesso al suo cuore mostra una linea piatta Sono le 2.15 del mattino del 2 novembre 1984 Velma Barfield, donna pie e madre amorevole non chi assassina, è morta Scritto da Daniele Del Frate Trasformato in audiolibro dall'eresiarca Questo e tanto altro materiale vi è offerto da www.allofcrime.com Grazie per l'ascolto Grazie per l'ascolto